Salve amici, sono esattamente le 11 e 15 e cominciamo la settimana con i 50 secondi in diretta, da oggi in poi li farò in diretta e che cosa posso dire per esordire? Devo dire che abbiamo avuto a Torino sabato una manifestazione di quella che può essere l'imbecillità di un ragazzo italiano il quale facendo il ganassa ha creato tutto quello scompiglio che ha provocato oltre 1500 feriti e un bambino che sta soffrendo tra la vita e la morte, la mamma degli imbecilli è sempre presente come dice un proverbio, arrivederci a domani e speriamo che questa settimana non ci porti delle sorprese come quelle che ci ha portato ahimè sabato a Londra, arrivederci, a domani